Io sono strafelice della partita che abbiamo fatto oggi. Secondo tempo con l'1-1 abbiamo avuto tre occasioni limpide con Rodriguez per andare in vantaggio. Loro hanno fatto un tiro da 30 metri e hanno preso il palo. Loro venivano a tre sconfitte. Primo tempo, dite quale parata ha fatto se il mio portiere, se non un'uscita su Dybala, ma la stessa cosa ha fatto Sorrentino su Marilungo. Palle native lo sappiamo, è il nostro problema perché siamo conformati così, non siamo una squadra fisica come loro. Loro hanno fatto su due calci piazzati, noi abbiamo giocato. Il secondo tempo sono strafelice del gioco. Siamo arrivati quattro volte davanti alla porta. Ho detto tre con Rodriguez e una con Giorgi. Se questo vuol dire guardare il negativo, secondo me è sbagliato. Oggi Cesena è venuto qua, ha dimostrato di essere in partita, ha dimostrato di mettere le proprie forze e secondo me il Palermo era molto in difficoltà. Perché se fa gol Rodriguez il 2-1, due volte è finita. Mi dite se poi possiamo prendere il gol sul palo nativo, è chiaro che tutti sono 1-90. Noi siamo piccoli, può succedere. È chiaro che il 93 fa male. Tre volte davanti alla porta di Rodriguez. Ha tirato tre volte a botta sicura. Una botta sicura e una con tre contro zero, tre contro zero l'ha tirata fuori. Due. E poi c'è la palla di Renzetti, che bisogna vedere fuori gioco o non fuori gioco. C'era, c'era. Però è un'occasione. E allora ha tirato due volte a 33 metri, una su punizione e una su basket. Allora.